In Italia, un parlamentare ogni 10 ha una condanna definitiva a suo carico. E nonostante questo, continua a legiferare per noi. L'8 settembre, in tutte le piazze d'Italia, qualcosa cambierà. Manifesta e protesta la folla contro l'Italia che affonda, va in pista ma non decolla. Le mani in pasta e invischiate come dentro la colla. Come cazzo? Che paese è questo qua?